Vabbè comunque io la cosa più interessante visto che abbiamo voi tra l'altro noi adesso abbiamo provato a fare un attimo un rebranding di Instagram ma era chiedere un attimo a voi che avete 2 milioni e 6 sì gli autogol ne hanno di più però ragazzi diciamo che gli autogol forse sono un po' meno community non nascono come community nascono proprio come dei creators sono personaggi sono personaggi più personal brand forse loro sì sì poi loro comunque cioè per loro Instagram Facebook i social in generale sono un po' un modo per mostrare agli altri tutto quello che fanno loro fanno radio tv fanno mille cose e poi ovviamente fanno i meme anche su Instagram che non mi piacciono tantissimo però appresso la costante andiamo a vederceli un attimo ma Davide ti volevo chiedere una cosa tu non riesci a metterci tipo tutti uno di fianco all'altro con questa inquadrasura qua ma già ma già devi ringraziare Cristo che non è che non è andata via la connessione a questo al regista adesso vuoi anche che ci mette no le mette 5 sopra e 5 sotto quando si 10 così no e chiama altri 5 a cazzo e noi metteci sopra ma il mio volume è ancora troppo alto o no no adesso ti sento bene allora commentatemi questo ragazzi da addetti ai lavori 2019 è un po' vecchio è un po' vecchiotto come diciamo base meme ecco poi questa storia del 9 ha un po' rotto il cazzo giustamente comunque sono 6 anni 10 anni anzi porta rispetto no no infatti c'è però almeno loro non sono pavidi come te che hai fatto un dissing a tutta la scena Instagram Italia poi entrano no tranne loro comunque sono 9 anni sono 9 anni che ha smesso il numero 9 più forte della storia esatto no per di più hanno ancora questa base delle 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 scritte in giallo sopra sotto è molto è molto è molto passata come cosa è proprio vecchio meme 2015 2016 quella però posso dire una cosa è un po' vecchiotta come cosa questa è anche fatti malino è proprio penso 144 mila like infatti ormai con questo stile forse sono più riconoscibili effettivamente perché ormai è loro secondo me non è tanto c'è la qualità è una roba talmente soggettiva no non è assolutamente un dissing con gli autogor ragazzi non iniziamo a far stecca no no infatti no no se no chiamiamoli live e discutiamo in inizio perché io il tema che volevo andare è perché è un po' come quelli che dicono dà tolgo la condivisione schermo quelli che dicono eh ma cali lame adesso lo pronuncio sempre di merda ma io con gli inglesi sono così raga bene non mi ricordo che tu abbia azzeccato neanche i tedeschi mai potresti fare le telecronista rai no dicono tante volte che non fa ridere ma io ve lo faccio un esempio su di me io ho fatto per una marea di tempo anche dei contenuti che non mi facevano impazzire però poi fai 3 milioni 4 milioni di visual 170 mila like alla fine noi lo facciamo per lavoro quindi qua non è che stiamo facendo i conti sul lavoro di uno dell'altro per fare un ragionamento che va oltre il dissing che non ce ne fremo cazzo visto che non facciamo i rapper nessuno di noi qua vi volevo chiedere io potrei pensarci ma infatti dai che non ti posso anche buttare fuori su streamia per favore ma io ti dico una cosa Andre cioè secondo me il cliente in questo caso il pubblico ha sempre ragione nel senso che per carità i numeri non sono l'obiettivo non sono la cosa da guardare tutto quanto però oggettivamente se fanno dei numeri con questa roba qua e continuano a farla e tutto quanto alla fine ha ragione loro cioè non ha certo ragione quello che si mette sul balcone lì a guardare tutti dall'alto verso il basso e dire no io non mi sporco le mani con quella roba lì io non la faccio e poi fa 13 like quindi per mettere tra loro tra queste due figure hanno assolutamente ragione loro anche perché poi gli autogol diciamo che la meme per onestà anche intellettuale è l'ultimo pezzo cioè quasi un corredo di quello che loro fanno raga perché nascono come creatori di contenuti quindi è come magari tengono alto l'algoritmo loro è giusto così allora però dal vostro punto di vista quanto è difficile alla fine perché io vedo che anche nella nostra economia quando tu vai a trattare dei tre dei temi che sono mainstream no anche che sono totalmente sputtanati per tornare al ragionamento che faceva prima Manfred ovvero la nazionale alla fine fai sei volte i like che fai magari su faccio un esempio le magliette di miga no nonostante magari tutti cioè vince Berrettini tutti mettono lo stesso meme di Berrettini che nessuno si inculava prima diciamo di questo ultimo exploit del tennis italiano e magicamente tutti fanno i big like cioè e Instagram che è quel prodotto lì cioè non so dove vogliamo andare io vorrei aggiungere una cosa che se tu adesso siete stati qui voi due però chiunque c'è una pagina che vuole mettere di contenuto secondo me la maggior parte delle volte ragioni do una visione di quello che sta succedendo a modo mio col mio linguaggio e spero che poi a me piace e che diventi diciamo che piace a tutti mentre qui sei quasi come obbligato a mettere quella cioè mentre prima dici mi piacerebbe mettere questa cosa qua se invece c'è Berrettini che vince la semifinale devi per forza ti svegli e dici devo mettere il post con Berrettini se non rischio di non fare tanti là cioè è questo secondo me che potrebbe essere un problema e tu guarda no e purtroppo Manfred c'è eh no infatti sono rimasto un po' così non è che se non faccio ruti no no però Manfred c'è semplicemente queste cose si chiamano trend cioè non fare il post di Berrettini secondo me ti toglie anche quella quella fetta di pubblico che non prenderesti se non facessi quel tipo di post ecco ecco quindi diciamo quasi come obbligato eh ma non è sì perché secondo me poi ci sono anche poi migliaia di persone che ti scrivono sì perché non avete fatto il post su Berrettini quindi cioè non è una cosa da sottovalutare quella però per di più c'era eh dimmi no farlo col tuo linguaggio è già un'altra cosa cioè nel senso un conto è fare il post perché lo devi fare un altro è legarlo al tuo linguaggio un po' come ho fatto io con il meme di Barella e la mia faccia invece che quella di Barella cioè diciamo vediamo perché così offendiamo anche miglia perché mi dispiace non offendono in questa guarda seguire il trend però immagino già l'innovazione di questo meme ti dico Manfred quella roba lì io la vedo tanto in chi ti mette la notizia Berrettini ha vinto la semifiche cioè se tu me la scrivi così e me la butti anche magari come dire proprio lanciata dai che schifo è ragazzi aspetta aspetta perché non è finita qua qua c'è veramente c'è un miga veramente l'egoismo ovunque pronti? anche il fotosog e che testone miga eh fate col telefono queste ma questa era fatta volutamente per non essere credibile no ma c'è anche la terza c'è anche quella sì ma livelli di egocentrismo pazzeschi tra l'altro sì no parecchio altro fa anche il look da calciatore il miga quindi se tu la guardi un po' distratto ci caschi cioè non capisci subito che è il miga è forse solo il testone che è decisamente sproporzionato al corpo comunque allora questo siamo tutti d'accordo che è seguire il trend secondo voi assolutamente in futuro noi a oggi per dire abbiamo fatto un non che noi abbiamo ragione anzi probabilmente i numeri visto che siamo da 12 anni a 160.000 fan non è così però vogliamo provare a fare qualcosa che sia un po' diverso andando su altre cose e vi dico la verità Berrettini va in finale non facciamo il post cioè ma non la commenti Bruschetta chiunque ma perché non l'avete messo ma siete pazzi no per andare dove dicevi tu prima no anche in casa hai questa secondo voi però il futuro dei soci cioè dove andiamo visto che comunque io come anche voi non Manfred che viene da il GF quindi più sotto l'aspetto no non era per prenderlo in giro guarda mi sarei aspettato di essere trattato ovunque con questa sufficienza ma non qui ti dico la verità è la pausa prima di GF sono stati i programmi di calcio no qua dal pancio è andata al GF schifo va bene va bene stavo dicendo stavo dicendo il futuro è il judo sì ragazzi no allora secondo voi quanto indiveni cioè il calcio visto che voi come me avete iniziato in tempi non sospetti a trattare di social quindi tra l'altro una delle prime community io mi ricordo voi e calciatori ignoranti adesso farò una gaffa no? chiamarsi secondo me loro chiamarsi bomber no più che altro sono un po' allergico a quel nome lì mi ha ok scusate mi si irritò un po' la pelle quando lo senti io sono un po' nuovo io sono un po' nuovo di casa no no Andre hai ragione hai ragione no ma non mi dare ragione come con i vecchi hai insulcio cioè per favore comunque stavo dicendo quindi tornando a noi secondo voi visto che voi siete stati dei precursori di questo mondo qua nel futuro io ho visto che voi su Twitch avete tutt'altro diciamo mood cioè siete molto più verticali e fate anche come stiamo provando a fare oggi qua meta web quindi si parla di quello che capita su internet secondo voi quale sarà il futuro perché oggi probabilmente i trend pagano ancora ma quanto può andare avanti sta roba qua perché secondo me alla lunga quello che dice Manfred non è come diceva qualcuno in chat da rosicone italiano che non gode per la nazionale ma è perché un po' come la storia di Lillo che a me ha fatto ridere però dopo sette giorni che mia madre arriva a dirmi oh sono Lillo al citofono dico mamma però porco Giuda anche tu cioè un po' too much no? cioè quanto brucia oggi velocemente il web e quanto è sostenibile ancora pensa che pensavo stessi parlando di Lello e che avessi sbagliato nome no Lello veramente comunque è scappato Lello Andre io ti dico la mia perché ci ho pensato anche un po' in sti giorni sarà un caso non lo so però secondo me è tutto talmente in mano a quell'algoritmo lì che noi oggettivamente per quanto possiamo prevedere trend piuttosto che modi di fare i contenuti nuovi modi di fare i meme che cazzo ne so alla fine quel algoritmo lì premia chi vuole lui premia quello che è favorevole all'azienda Facebook all'azienda Instagram cioè se Instagram e Facebook hanno bisogno che la gente stia sulla piattaforma clicchi sui contenuti li mandi agli amici tutte queste cose qua premieranno i contenuti che ti permettono che gli permettono di fare questa roba per quanto riguarda no per quanto riguarda anche i contenuti secondo me da quando abbiamo iniziato noi ora come ora ci saranno almeno 500 pagine in più che fanno i stessi contenuti su quello su quello specifico argomento quindi è chiaro che secondo me internet brucia molto più velocemente dei contenuti rispetto a dieci anni fa perché comunque se tu scrolli una bacheca di Instagram adesso vedi prima eravamo magari veramente noi chiamarsi bomber parlando della nazionale noi chiamarsi bomber di a togol erano tre contenuti magari quattro ora vedi che ci sono almeno 50-60 community calcistiche più o meno grosse che anche loro marciano sul trend giustamente però vedere uno due contenuti al giorno anziché che 10-12 al giorno fa in modo che secondo me brucia un trend nettamente più veloce questo gli ho fatto il video quando è uscito era la mia home quando Berrettini esatto esatto beh però se entravi al bar non sentivi parlare della stessa cosa no assolutamente no io dico questa roba qua che noi però siamo nati ok vado ancora più giù visto che non ci volete andare voi noi siamo nati un pochino tutti noi per modi su contenuti diversi ma per dare diciamo a chi ci guardava a chi aveva voglia di cercare quel tipo di contenuto lì che non trovava né sui giornali né in televisione né negli altri media a oggi cosa è successo a un certo punto poi probabilmente io come anche voi per motivi diversi nella speranza un giorno di fare un giornale diventare un editoriale piuttosto che un presentatore televisivo comunque sfondare nel mondo della televisione in quei media lì cosa succede che a un certo punto 2017 2018 2019 questi qua sono iniziati a venire loro da noi e si è inflazionata ancora di più la cosa ok quindi a oggi quello che una volta non era mainstream ma era diciamo più underground che comunque era un tipo di ironia da internet oggi viene fatta da Salvini comunque adesso non voglio dire Salvini comunque i politici in generale piuttosto che striscia la notizia che fa vedere le meme io quando vedo le meme striscia la notizia dico con tutto che io ci sono cresciuto con striscia però è ma siamo ancora questa roba qua e ora che andiamo un po' avanti questo era quello che voleva arrivare con voi che siete stati tra i primi non era un attacco come dicevamo prima a chi fa quel tipo di comunicazione lì ma dove vogliamo andare perché forse insomma purtroppo sono arrivati loro qua io mi ricordo anche sdp tre o quattro anni fa era probabilmente la pagina instagram più forte d'italia sdp ma oggi non lo so se lo ha ancora cos'è sdp sesso droga ah no ok 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 e tra l'altro avevo invitato anche loro in puntata avevo invitato gerry ma era a lavorare credevo fossero tipo dei personaggi mistici che non esistono tipo cioè qualcuno che sta dietro con la pagina che però in realtà a proposito di personaggi mistici a breve sta per entrare un personaggio va bene andiamo in chiusa su quest'argomento che voglio sentirla loro ma Andre è difficile no è difficile da dire come come si svilupperà la cosa magari forse quello che mi sento di dire è che forse ci saranno più video rispetto al classico al classico meme che stiamo vedendo ormai da da anni non lo so non lo so effettivamente anche questa cosa che la tv ha influenzato tanto il web anche noi facciamo tanti contenuti che puoi vedere semplicemente guardando la partita però funzionano il fatto che come dice Dani finché l'algoritmo ti premia e e ti dà comunque visibilità in questo momento ci troviamo un po' tutti schiavi del di questo di questa cosa non lo so effettivamente è troppo difficile da dire come come possa cambiare il web in questi anni è un domandone da da un milione di like però dico una cosa tu sei appassionato di la butto lì politica nel Medio Oriente quando entri nel bar che ci sono tutti i tuoi amici parli di Berrettini che ha vinto parli della Nazionale che ha vinto parli della politica in Medio Oriente cioè è una cosa che al di là dei social anche fuori dai social funziona così cioè se c'è un argomento di cui stanno parlando tutti in qualche modo meno male se ne parli anche tu cioè nel senso non però per quella cosa che diceva Andrea sulla tv che arriva sui social dopo che li ha schifati poi li ha copiati poi invece è venuta lei di qua devi anche vedere chi cioè nel senso Sky difficilmente lo fa altri programmi mi viene in mente ora per me il programma più bello del mondo sul calcio è Sfide però Sfide non attaccherà mai il mondo dei social per dire cioè nel senso chi ha bisogno dei social viene viene sui social perché ha un interesse a farlo non perché gli piacciono i social noi invece siamo nati tutti quanti sui social perché ci piacevano i social cazzo cioè siamo nati qua perché qua abbiamo trovato il modo di esprimere noi stessi ieri o l'altro ieri dove eri Andre che parlavi di marketing e robe varie a Rimini a Rimini tu hai hai detto una frase della Madonna cioè molti di noi sono nati non perché volevano fare i soldi ma per esigenza sociale cioè c'è stata un'esigenza sociale a un certo punto di una marea di persone che volevano esprimersi e non potevano magari volevano anche guadagnare e non potevano e hanno trovato nei social il modo per esprimersi alcuni per guadagnare altri per fare delle figure di merda diventare i personaggi del momento e poi sparire o avere diciamo un meccanismo negativo dai social però fondamentalmente è questo ragazzi forse scusate se vi interrompo forse abbiamo un'ultima ora bella forte ve la vado a cercare però sembra che sia una unica sulla salernitana ok adesso la leggiamo però vi volevo dire una roba riagganciandomi al discorso del bar che facevi tu prima cioè vai al bar e di che cosa parli parli di quelle robe lì una volta probabilmente il social che poi è sbagliato perché oggi sono sette otto le piattaforme una volta era una diciamo e c'era solo un tipo di pubblico che eravamo noi non c'erano i bambini non c'erano che poi tra l'altro oggi sono ragazzi o uomini uomini non mezzi uomini che magari no mezzi uomini è brutto e non c'erano i nostri genitori però a oggi probabilmente quel bar lì è cambiato e probabilmente noi non ci andremo neanche più si è allargato una volta faccio un esempio io mi ricordo quando io sono arrivato a un milione di fan cazzo eravamo in tre in Italia cioè oggi c'è della gente che ha sei milioni e gli italiani io non li conosco perché proprio è enorme secondo me oggi il mercato è diventato molto più vasto e probabilmente niga ne è una testimonianza che tra l'altro mi avete presentato voi che le nicchie iniziano a prendere sempre più piede quindi è vero che il trend è ovviamente quello che fa fare più like e probabilmente perché poi nei like c'è anche di mezzo la parte commerciale perché poi tante volte uno dice ma segui il trend segui il trend perché voglio andare a soldi quindi vi capisco ma il futuro secondo voi non sono le verticalità cioè io noi facciamo una fatica della madonna a provare a portare questi tipi di contenuti su Twitch perché anche tante volte la chat poi dopo ti trolla oppure ti dice porta al calciomercato infatti mi hanno appena trollato su questa cosa che vi avevo detto porta al calciomercato eh vogliamo la figa però secondo me tante volte bisogna cercare anche un po' a disbattertene il cazzo anche perché sennò diventi un prodotto di quello che vuole la gente che è quello che fa la televisione e soprattutto ma non era un per ragionarlo insieme raga non era un no no ci stava grande come discorso tutte le volte se segui quello che ti viene detto diventi il pancio per non fare cioè il pancio cioè quello che io facevo prima che faceva numeri però cioè non è neanche stimolante insomma chiedo a voi eh è che alla fine c'è una fatica raga qua c'è una grossa una grossa differenza tra grandi numeri e numeri che valgono davvero perché comunque eh fare i grandi numeri non sempre è così monetizzabile tu hai fatto l'esempio anche di sesso droga e pastorizia per dire no per fare un esempio non è una pagina monetizzabile non è una pagina con cui puoi lavorarci seriamente ho tantissimi altri esempi di pagine che hanno numeroni ma probabilmente guadagnano meglio meno di me per fare un esempio non che io guadagno i milioni magari però dico qualche spicciolo la vendita delle scarpe lo sappiamo no beh è un mercato che comunque è attivo eh però se tu riesci ad essere più verticale poi diventi anche più monetizzabile più contattabile dai brand più insomma mille cose se invece ti basi solo sul fare tanti numeri perché è figo avere tanti numeri rischi poi di essere né carne né pesce di non essere spendibile sul mercato dell'influencer marketing o di lavorare con i brand ma forse no amiga anche per esempio Kabilame in questo momento ok fa i numeroni eh sì però poi come monetizzati esatto ha talmente un pubblico ampio ma veramente worldwide Kabilame che è è Grazie.